dunque questa mattina iniziamo spero che siate svegli e ben presenti iniziamo a affrontare un argomento tra quelli un pochino più difficili del corso fino ad ora abbiamo fatto quelle facili la ricorsione che di fatto è una tecnica di programmazione abbastanza utilizzata a valle del guado attraverso cui dobbiamo passare relativamente anche semplice da implementare però richiede diciamo così uno sforzo concettuale per poter essere compresa e padroneggiata che non ce lo nascondiamo non è affatto banale perché dobbiamo farci del male in questo modo ma perché per affrontare risolvere molti tipi di problemi uno strumento di questo genere che poi è un strumento di programmazione una tecnica di programmazione è molto utile diventa molto più semplice affrontare la soluzione di alcuni problemi in modo ricorsivo che non doverla fare in modi diversi allora di cosa stiamo parlando stiamo parlando di un meccanismo di programmazione che ci permetterà di affrontare dei problemi anche complessi complessi cioè con molte potenziali soluzioni soluzioni che tra l'altro devono essere trovate scoperte con un approccio diciamo così di tipo divide timpera cioè dividendo le tutte le soluzioni possibili in gruppi affrontando un gruppo per volta e questo ci permetterà di inventarci un metodo sistematico per poter esplorare tutte le possibili soluzioni o potenziali soluzioni questo è il motivo principale per cui parliamo della ricorsione quindi poter affrontare un problema che ha tantissime soluzioni potenziali possibili e imparare a elencarle enumerarle trovarle provarle una per una se io vi dicessi giochiamo una partita a qualunque gioco domino domino se è facile solamente mette le tesserine però in ogni turno tu devi mettere una tesserina tra quelle che hai e quelle che rispettano i vincoli che sono determinati delle tessere che in quel momento sono in campo allora ad ogni passo ho una serie di scelte possibili le quali vanno a costruire uno spazio di possibilità sempre più ampio ecco per poter vincere a questo gioco dovremmo essere in grado di esplorare tutte le scelte possibili e come facciamo a generare tutte queste scelte possibili non so quanti pezzi ho io devo scegliere quale pezzo da che parte girarlo dove dove attaccarlo sono le alternative che con le tecniche di programmazione che conosciamo adesso rischieremo di impantanarci di incasinarci dimenticarne qualcuno invece la ricorsione ci da un modo molto ordinato per poter generare automaticamente tutte le soluzioni che ci servono l'altra cosa è che ci serve come strumento l'ultimo punto qua il motivo per cui affrontiamo la ricorsione ci serve come strumento per poter capire e poi usare le strutture dati che intrinsecamente sono ricorsive gli alberi e i grafi alberi e grafi per potersi attraversati per poter fare qualunque operazione sensata hai bisogno di una procedura ricorsiva per poterlo fare e quindi ci serve un pochino come anche tecnica di uso di gestione di queste strutture dati allora la definizione è molto semplice cos'è che intendiamo come ricorsione beh un programma una funzione un metodo una classe viene detta ricorsiva se nella sua implementazione di quel metodo ad esempio compare una chiamata al metodo stesso ok dentro l'implementazione del metodo pippo a un certo punto chiamo di nuovo il metodo pippo chiamo se stesso richiama se stesso oppure questa è la ricorsione diretta oppure la ricorsione indiretta significa che all'interno di un metodo se ne chiama un altro il quale ne chiamerà un terzo il quale alla fine poi richiamerà il metodo di partenza quindi questo ritorno di richiamare se stessi potrebbe anche non essere diretto ma passare attraverso una serie di metodo intermedi non fare nessuna differenza ovviamente ovvio che cosa succede che se io ho un metodo che a un certo punto chiama se stesso verrà lanciata una seconda esecuzione dello stesso metodo che a un certo punto richiamerà se stesso che quindi lancerà una terza copia di quel metodo che a un certo punto richiamerà se stesso e così via quindi bisogna fare attenzione che una ricorsione non si trasformi in un pozzo senza fondo di cose che richiamano se stessi e che richiamano se stessi all'infinito l'infinito non esiste prima o poi la memoria finisce senza poter diciamo così ritornare indietro e uscire da questo benedetto metodo quindi questa idea qua di ricorsione che viene data da questa immagine è un po' sbagliata nel senso che noi mentalmente abbiamo l'idea che questa incasellarsi nel televisore che riprende se stesso che riprende se stesso che riprende se stesso va davanti all'infinito noi non vogliamo una ricorsione che va davanti all'infinito vogliamo una ricorsione che a un certo punto ci porti un risultato quindi va un pochino gestita questa quindi il meccanismo di base è una procedura che si è in grado di richiamare se stessa e poi vediamo come vabbè questa è una vignetta che circola nei gruppi informatici in realtà il concetto di ricorsione in matematica viene usato molto spesso tante volte in modo teorico se guardate una possibile definizione del fattoriale di un numero c'è scritto che il fattoriale del numero n è per definizione n moltiplicato il fattoriale del numero n-1 per tutti i casi in cui n sia maggiore o uguale a 1 mentre invece se n è uguale a 0 per definizione il fattoriale vale 1 vabbè questo è un caso particolare quindi qui non ci dice una formula per calcolare il fattoriale ma ci definisce se tu sai calcolare il fattoriale di n se sai calcolare il fattoriale di n-1 quindi questo ci può dare un'idea di come implementarlo questo adesso per calcolare il fattoriale noi non faremo mai questo una procedura ricorsiva nella pratica facciamo un ciclo for che moltiplica il numero da 1 n però se vogliamo far fede a questa definizione matematica che è ricorsiva perché esprime un valore nuovo una funzione nuova il fattoriale che non conosciamo sulla base della funzione stessa allora puoi dire che traducendolo in java il modo per calcolare il fattoriale del numero n applicando la definizione se per caso n è 0 siamo nel caso particolare allora il risultato è 1 il risultato del fattoriale è 1 altrimenti se n non è 0 quindi sarà maggiore o uguale a 1 il risultato è la moltiplicazione di n per il risultato della chiamata alla funzione fattoriale su n-1 quindi sto chiamando una funzione che guarda caso sono sempre io e questa funzione allora a sua volta farà esattamente lo stesso lavoro ma con un valore di n che è diverso e che se io chiamassi la stessa funzione con lo stesso valore di n è garantito che il programma non terminerà mai perché la funzione farà sempre esattamente le stesse cose perché avrà sempre lo stesso valore di n il fatto che questo programma termini ed effettivamente mi restituisca il dato giusto è diretta conseguenza del fatto che ogni volta che viene chiamata questa funzione viene chiamata con un n più piccolo con un problema più facile da risolvere calcolare il fattoriale di n-1 è pochino più facile di calcolare il fattoriale di n e quindi se io e io itero riapplico questa regola ogni volta avrò un problemino più facile da risolvere fino a quando il problema sarà così facile che n vale 0 e allora sono il risultato una volta che sono il risultato con n uguale 0 chi ha chiamato il fattoriale con n con il parametro 0 prenderà questo risultato che vale 1 e lo moltiplicherà per n che in quel caso varrà 1 ovviamente perché se n-1 vale 0 e questo n vale 1 quindi farà un 1 per 1 e lo ritorna come risultato del fattoriale di 1 questo risultato del fattoriale di 1 torna indietro alla chiamata ricorsiva precedente che lo moltiplicherà per 2 e così via allora poi ci entriamo bene in questo meccanismo la prima cosa che ci diciamo così dobbiamo notare mentalmente è una procedura ricorsiva può terminare quindi può darmi un risultato solo se 1 ogni volta che viene chiamata viene chiamata su un problema più semplice e quindi via via la complessità del problema si riduce se rimanesse costante o se aumentasse non potremmo mai a nessun risultato 2 ci sono dei casi abbastanza semplici per cui la soluzione riesco a trovarla senza più far uso della ricorsione quindi la ricorsione è un metodo per affettare a dadini un problema in modo che poi ciascun dadino si possa risolvere senza la ricorsione in modo semplice banale quasi ovvio ok? adesso quello del fattoriale è un esempio che non ha senso diciamo così analizzare più di tanto perché ci porta è troppo semplice per poter sembrarci utile infatti non è utile qui ci portiamo a casa a questi due primi concetti quindi praticamente noi dobbiamo se vogliamo applicare questo metodo dobbiamo cercare di immaginarci dato un problema il modo per trovare una decomposizione una divisione del problema in sottoproblemi più facili più piccoli e dello stesso tipo di quello di partenza perché se poi i sottoproblemi sono di un tipo diverso non potrò riusare la stessa funzione per rifare il stesso ragionamento ok? e poi a questo punto se ho diviso un problema in due sottoproblemi più facili vorrà dire che potrò usare la stessa funzione applicata a ciascuno dei due sottoproblemi separatamente allora uno dei due sottoproblemi a sua volta potrà essere o è facile da risolvere lo risolvo al volo oppure non è facile da risolvere allora lo potrò a sua volta decomporre in altri sottoproblemi dello stesso tipo ma più piccoli cercherò di risolverlo e poi dopo quando avrò finito di risolvere questo problema tornerò al secondo sottoproblema del primo giro allora qui capiamo che è facile perdersi mentalmente di capire a che punto sono arrivato problema sotto problema sotto sotto problema quindi dovremmo darci un pochino di metodo di ragionamento immaginiamo che io in quest'aula voglio sapere chi di voi è più vecchio è nato prima vecchio non si applica ancora è un problema semplice no? di ordinamento di max eccetera però immaginiamo che questo sia il mio problema allora io posso sapere chi è nato prima in una classe di tot persone però potrei decidere di dividere questo problema in due sottoproblemi divido l'aula in due e prima trovo il più vecchio del ramo sinistro dell'aula e sarà una persona poi trovo il più vecchio della parte destra e sarà un'altra persona e alla fine confronto loro due il più vecchio della classe sarà il più vecchio tra il più vecchio della parte sinistra e il più vecchio della parte destra e come trovo il più vecchio della parte sinistra prendo questo blocco lo divido a metà magari così le prime cinque righe le ultime cinque file di banchi allora troverò il più vecchio delle prime cinque file il più vecchio delle ultime cinque file e li metto la confronto questi due il vincitore tra questi due diventerà il più vecchio del blocco di sinistra ovviamente da questa parte farò la stessa cosa divido cinque file prendo questo eccetera ma separatamente e ovviamente cinque file magari sono tante e allora posso dividerle ancora a sua volta le prime tre colonne e le altre quattro colonne pesco di qua pesco di là metto insieme e mi darà il più vecchio delle prime cinque file della parte sinistra e così via a un certo punto quando ho tre persone quando ho due persone quando ho una persona sola sarà lui quando ne ho due vi confronto cioè arriva una dimensione per cui non vale più la pena dividere oppure una dimensione in cui che ne so se alla fine mi rimane solo la prima fila della parte sinistra dove non c'è nessuno il problema è già bello che è risolto non c'è e quindi non è inutile andare a dividere le sedie vuote se non ci sono persone se non ci sono dati il dentro non mi serve allora che cosa sto usando sto usando un problema un meccanismo per dividere lo spazio delle soluzioni in questo caso in due ma non ho detto ogni volta e poi una regola per rimettere insieme le soluzioni parziali che ho trovato perché io dico so risolvere il problema nella metà sinistra se risolvo il problema nella metà destra ma poi ho due soluzioni ho due soluzioni parziali qual è quella giusta? allora devo confrontarle e decidere quale diventa la soluzione giusta quindi prima divido il problema poi impera conquisto la soluzione di ciascun sottoproblema e poi rimetto insieme le soluzioni dei sottoproblemi in un problema unico questi tre passi ci sono sempre quindi divido il problema P in sottoproblemi Q con I che siano più piccoli ma che siano dello stesso tipo questo è importante ci siano dello stesso tipo perché il fatto di essere dello stesso tipo mi permette di usare la stessa procedura quindi questo mi permette o di trovare una soluzione a un problema come era questo o una domanda una funzione da calcolare l'età maggiore delle persone o un modo per esplorare lo spazio delle soluzioni possibili ciascuno di voi è una possibile soluzione al problema sono io il più vecchio è una possibile soluzione al problema la sedia vuota no non è una possibile soluzione al problema qui ci sono dei punti nello spazio di ricerca che sono potenziali soluzioni altri invece che non sono potenziali soluzioni tra quelle potenziali soluzioni devi trovare qual è la vera soluzione quindi a volte parliamo anche proprio di esplorazione dello spazio delle soluzioni possibili esplorazione cioè andare a guardare in tutti gli angoli in tutte le possibilità in tutte le combinazioni in questo caso le soluzioni possibili sono il singolo elemento quindi esplorare uno spazio significa esplorare uno ad uno i singoli elementi allora esplorare uno ad uno i singoli elementi effettivamente si fa più in fretta con un ciclo bastava chiedere uno dopo l'altro la data di nascita e si faceva un calcolo di massimo semplice però a volte le soluzioni non sono solamente non è così il problema non è così semplice così buono e mi chiede dimmi qual è l'elemento tra questi che hanno una certa proprietà magari devo capire se ci sono qua dentro delle persone che sono nate in giorni consecutivi e capire qual è la catena più lunga di persone che sono nate magari il 3 febbraio il 4 febbraio il 5 febbraio ci sono e questo è già un pochino più complicato perché la mia soluzione possibile non è la persona ma è una sequenza di persone di cui non conosco neanche a priori a lunghezza magari le vostre mamme si sono messe d'accordo se ne andate tutti in fila uno, due, tre, quattro tutti i giorni al mese quindi a quel punto lo spazio delle soluzioni non è più lo spazio delle persone degli elementi ma lo spazio delle sequenze composte da elementi ordinati e non ripetuti tra di loro purché abbiano una certa proprietà di consecutività delle date ok allora scriviamo un algoritmo che generi tutte le possibili sequenze di persone sine singole coppie terne quaterne di persone ordinate senza ripetere le persone all'interno della quaterna ma provando a ordinarle in tutti i modi possibili immaginabili non è banale da scrivere però con la ricorsione lo possiamo affrontare un po' per volta cominciamo a prendere una persona poi data una persona formuliamo il problema dicendo dato una sequenza di persone che sono nate in giorni consecutivi trovare possibili aggiunte allora se non due trovo il terzo se non tre trovo il quarto se non quattro trovo il quinto quindi ogni volta ripeto un problema e il problema il sottoproblema è aggiungere una persona a quelle che ho già e quindi riesco a costruirmi in modo costruttivo un pezzo per volta delle catene delle sequenze e ad ogni volta che vado più giù nella ricorsione che scendo di un livello nella ricorsione avrò un elemento in più nella mia catena poi a un certo punto alla catena non potrò più aggiungere persone perché i giorni non quagliano e allora mi fermerò lì tornerò indietro e proverò con catene diverse quindi soprattutto questa esplorazione dello spazio diventa complessa quando le soluzioni non sono elementi singoli ma sono insieme di elementi sequenze di elementi sequenze ordinate o non ordinate di elementi ripetute o non ripetute forse forse ad analisi 1 avete fatto o vi hanno ricordato un pochino di calcolo combinatorio dove c'era scritto la disposizione di tre elementi in otto posti c'era la formuletta del coefficiente binomiale che vi diceva quante sono le combinazioni e quindi se io ho 30 persone che salgono su un tram o su un autobus con 50 posti quanti sono i modi in cui si possono sedere queste persone e vabbè questo avete la formuletta lo sapete fare ciò che facciamo con la ricorsione risponde all'altra domanda quali sono i modi in cui si possono sedere cioè tu sai che si possono sedere in non lo so 200 milioni di modi ok elenchiamoli perché di ciascuno di questi voglio vedere se è la mia soluzione perché magari voglio vedere la disposizione ottimale dei pesi all'interno dell'autobus per consumare meglio le gomme quindi fare in modo che disporre le persone all'interno dell'autobus il problema stupido che mi sto inventando adesso in modo che il baricentro sia più possibile al centro dell'auto quindi tenere conto di dove si siedono di quanto pesano le persone e distribuirle in modo ottimo allora è possibile farlo in modo esaustivo cioè generiamo tutti i possibili modi in cui le persone si possono sedere per ciascuna calcoliamo la posizione del baricentro e troviamo quella che si trova più vicina al centro dell'autobus perché soluzioni analitiche a questo problema non ne abbiamo non è che mi metto lì faccio gli integrali e salta fuori dove devono sedere dove deve sedersi Antonio che è salito adesso non c'è non esiste posso provarle tutte e trovarla migliore per fortuna in problemi discreti di matematica discreta le possibilità non sono mai infinite e quindi ho sempre almeno concettualmente la possibilità di provarle tutte quindi cammini insiemi percorsi permutazioni combinazioni cioè tutti i cardini del calcolo analitico sono i meccanismi per dividere lo spazio per dividere lo spazio dei problemi le soluzioni ci danno un'idea di come andare a decomporre il problema allora lo schema generale che useremo che si usa sempre nella ricorsione sono procedure di questo genere allora immaginiamo di avere un problema da risolvere e quindi definiamo una funzione solve un metodo solve che prende il problema e mi restituisce la soluzione allora se la soluzione la vogliamo approcciare con un metodo ricorsivo divide timpera cosa facciamo? come prima cosa prendiamo il problema e lo dividiamo in sotto problemi questo è un assoluto codice poi bisogna ogni volta inventarsi qual è la rappresentazione del problema cioè questo problema cosa sarà? una lista un set una mappa una matrice dipende da qual è il problema che stiamo risolvendo e lo dobbiamo dividere in altrettante liste matrici set mappe ciascuna corrispondente a una parte del problema poi questi sotto problemi uno per uno li risolviamo quindi chiamiamo la funzione solve che risolve il sotto problema iesimo primo secondo il terzo il quarto e ci mettiamo da parte la soluzione che abbiamo trovato per questo sotto problema questo problema potrebbe non avere soluzione la fila di banchi vuoti potrebbe avere una soluzione che fa schifo o potrebbe avere una soluzione che magari è anche buona se fa schifo se è buona lo scopro solamente dopo quando prendo le varie sottosoluzioni e cerco di combinarle insieme nella soluzione principale ogni procedura ricorsiva è convinta che lei sta risolvendo il problema completo quindi questa solution per lei cacchio ho trovato la soluzione poi magari non è il problema che le è stato fidato non è il problema originale ma è un sottoproblema di un sottoproblema di un sottoproblema a me non interessa a me procedura ricorsiva mi è stato dato un problema devo dare la soluzione a quel problema lì che quello sia quello il top level oppure sia uno annidato da sotto fa lo stesso il mio compito è quello quindi ogni procedura vede solamente questo pezzo qua da sopra mi affidano un problema e io sotto di me ho degli schiavi che sono delle procedure che sono capaci di risolvere problemi di quel tipo purché siano un pochino più piccoli del mio che poi questi schiavi siano cloni di me stesso non mi importa ok quindi ti dicono risolvi questo problema sapendo che puoi chiamare la funzione soldo che è capace di risolvere pezzi di questo problema bisogna solo non perdere il filo di dove siamo arrivati sicuramente il programma non perde il filo noi un pochino potremmo avere qualche difficoltà in più quindi di solito cercheremo sempre di tenere traccia del livello a cui siamo arrivati nella ricorsione cioè quante volte questa procedura si è chiamata se stessa quindi ci sarà la chiamata principale alla procedura ricorsiva questa chiamata a livello 1 diciamo questa chiamata chiamerà se stessa più volte e queste varie chiamate le chiamiamo chiamate di livello 2 e ciascuna procedura al livello 2 se fate le chiamate ricorsive queste saranno chiamate ricorsive al livello 3 e così via tante volte abbiamo proprio una variabile esplicita che chiamiamo livello per sapere dove siamo questo però va avanti all'infinito questa roba qua dobbiamo in qualche modo fermarla per fermarla dobbiamo scoprire se esiste dobbiamo trovare essere capaci di trovare dei casi in cui il problema che mi è stato passato è abbastanza facile banale da potersere risolto in modo banale dove per banale intendo senza far uso della ricorsione un'altra volta quindi se io ho una persona è U se ho 0 persone si risolve se ho 2 persone vado a vedere sono nate i due giorni consecutivi A prima di B oppure B prima di A oppure né una né l'altra la risolvo così non ho bisogno di fare chiamate ricorsive quindi devo sempre intercettare all'inizio della funzione ricorsiva prima di mettere in piedi tutto il meccanismo della ricorsione di scendere ancora di livello non dico questa frase mi viene sempre in mente Inception il film non so se l'avete visto prima di scendere a livello sotto mi chiedo se per caso non posso già risolvere la soluzione a questo livello qua e poi ho già la soluzione ritorno alla soluzione senza bisogno senza la necessità di scendere in un ulteriore livello e quindi interrompo questa catena di chiamate a livello di codice poi lo vediamo sul codice vero quando abbiamo tante chiamate ricorsive della stessa funzione ogni funzione ha le proprie variabili quindi se io ho una variabile locale dentro quella funzione che insomma ho questa lista che si chiama subproblems e ho sette livelli di chiamate in ciascun livello ci sarà una variabile che si chiama subproblems che è diversa dalle altre ognuna ha le sue i parametri di una funzione e le variabili locali sono private all'interno di quella funzione se quella funzione ne chiamo un'altra quest'altra funzione avrà una sua copia di parametri problem e delle variabili locali non confondiamoci ma questa variabile si chiama i sì ma è i di quale livello di questo livello di quello sopra di quello sotto quindi ogni variabile ha i suoi salvo che alcune di queste variabili siano dei riferimenti a delle strutture dati esterne allora queste sono esterne sono comuni a tutti nel senso che tutti vedono la stessa struttura dati quindi bisogna fare attenzione almeno mentalmente se sicuri ok questa è una struttura dati chiamiamola tra virgolette globale anche se non sarà mai una variabile globale perché in Java non si fa ma condivisa tra tutte le funzioni tra tutti i livelli di chiamata ricorsiva versus questa è una variabile privata a questo mio livello di ricorsione e quindi le variabili le chiamate ricorsiva al di sotto di me non vedranno questa variabile perché avranno la loro copia e quando questa chiamata finirà per tornare la chiamante questa variabile viene persa distrutta perché esce dallo scope della funzione ok ma è normale nel senso che quando la funzione A chiama la funzione B B non vede le variabili di A cioè dal punto di vista del linguaggio non c'è nessuno problema e siamo noi che tendiamo a confonderci se per caso B è esattamente A quindi non abbiamo A che chiama B ma abbiamo A che chiama A e allora dire che le variabili di A sono diverse dalle variabili di A ci confonde un pochino ma sono due A diverse sono due istanziazioni di A diverse a livelli di ricorsione diversi questo lo saltiamo quando parleremo lo riprenderemo quando parleremo di complessità se proviamo a rigirare lo schema generale della ricorsione sotto forma di esplorazione di uno spazio allora i sottoproblemi problema bar sottoproblemi diventano dato uno spazio di soluzioni possibili provare a decomporre questo spazio costruendolo poco per volta io prima ho fatto l'esempio di avere un insieme di soluzioni e decomporlo molto spesso quando la soluzione è complicata conviene invece prendere l'approccio inverso cioè costruire la soluzione un pezzo per volta allora io parto se il mio problema cerca di trovare un elenco di persone una catena di persone allora partirò dal primo pensate al domino ho l'esempio di compleanno di prima partirò dal primo livello mettiamo la prima tessera del domino poi messa la prima tessera quali sono i possibili passi cioè quali sono le possibili prime tessere da mettere e dipende da quelle che ho in mano se è la prima mossa posso mettere ciò che voglio e allora per ciascuna possibile mossa faccio quella mossa e poi ne esploro le conseguenze cioè avendo fatto una mossa ho cambiato lo stato del gioco questo S è lo stato del gioco che inizialmente è partita nuova dopo che ho messo un pezzo lo stato del gioco è cambiato e quindi quando dovrò chiamare la procedura esplora lo spazio parte da un gioco che è già iniziato e quindi le mosse possibili a quel punto saranno diverse quindi la prima la chiamata di livello 1 esplorerà tutte le possibili prime mosse per ciascuna prima mossa io chiamo la procedura di esplorazione a livello 2 che esplorerà tutte le possibili seconde mosse data a quella prima mossa lì ovviamente poi quella di secondo livello farà la stessa cosa lei proverà tutte le seconde mosse e poi chiamerà l'explore per esplorare tutte le possibili terze mosse poi spesso cosa succede che quando noi facciamo una mossa dicevo cambiamo lo stato del gioco ci ho messo un pezzo avrò poi in pratica cosa vuol dire che avrò una list in cui ho fatto l'add di un pezzo prima di fare l'add del secondo pezzo possibile devo togliere quello precedente ok pensate alla partita del domino se metto il pezzo col 4 potrei mettere il 4 da una parte e il 5 dall'altra allora provo a mettere il 4 vedo che cosa succede ricorsivamente poi tolgo il 4 metto il 5 dall'altra parte e vedo cosa succede ricorsivamente se devo ricordarmi se qui sono dentro un ciclo in cui faccio delle prove che quando ho fatto una prova poi devo tornare indietro rimettere tutto a posto giocate a scacchi cronamico senti prova fa sta mossa ma è solo la prova la cilici pensi un attimo ma no no va male torno indietro provo un'altra questo stiamo facendo questo provare e rimettere le cose a posto prende il nome di backtrack cioè questa operazione di rimettere le cose a posto si chiama backtracking della soluzione cioè rimetto le cose a posto dopo che ho provato a pacioccarle a modificarle io quando esco dalla funzione tutto deve essere esattamente come l'avevo trovato e anche dentro la singola iterazione tutto deve essere ogni nuova iterazione un nuovo tentativo di una possibile sottosoluzione deve trovarsi come tentativo della stesso problema quindi non mi devo trovare il problema modificato dal fatto che prima ho fatto un tentativo diverso allora ovviamente il backtracking serve se noi stiamo lavorando su strutture dati condivise se stiamo lavorando su variabili locali no perché vuol dire che semplicemente quando esce la funzione quella scompare però se stiamo costruendo una soluzione lavorando su variabili condivise dobbiamo sempre fare attenzione ricordarci di rimettere le cose a posto faccio un passo vedo cosa succede e torno indietro faccio un passo in un'altra direzione vedo cosa succede e torno indietro e così via sempre così allora come possiamo aiutarci questi dobbiamo e noi faremo un po' di esercizi così nel senso che dedicheremo un certo quantità di tempo diciamo così sulla carta e poi passeremo al codice perché dobbiamo prima di tutto capire quando abbiamo un problema da risolvere in modo ricorsivo come arrivarci cioè c'è delle macro domande ok ho detto che c'è una funzione che si chiama tante volte ogni volta c'è un livello in più ma cosa rappresenta il livello? come affronto il problema? come decido di decomporre il problema o di costruire la soluzione cos'è una soluzione totale al problema oppure cos'è una soluzione parziale che ottengo da un certo problema? non sono domande filosofiche queste ma allora se la soluzione cos'è una list è un set e cosa c'è dentro questo set? e ad ogni livello cosa succede? aggiungo un elemento al set lo tolgo diviso il set in due ad ogni livello che operazione faccio? ogni problema sarà diverso ma le domande che dobbiamo farci sono sempre le stesse quindi in pratica noi dobbiamo prima di tutto decidere come rappresentiamo una soluzione sapendo che la costruzione la scopriamo poco per volta quindi dovrò rappresentare delle soluzioni ancora incomplete parziali la soluzione parziale della persona più vecchia delle prime tre fila di qua oppure la catena di due persone e qui non so se si può aggiungere una terza o delle soluzioni parziali e ogni volta che ho una soluzione parziale devo trovare una regola per generare tutte le possibili soluzioni di livello più uno quindi nel caso dell'aula prima la regola era prendere il problema che ho e dividerlo in due e ho generato due sottoproblemi prendendo un set e dividendolo anzi non è un set perché in realtà voi siete seduti in un posto ben preciso quindi una matrice dividendo una matrice per la lunghezza o per la larghezza è un modo prendo il problema divido in due sottoproblemi nel caso del domino della sequenza date i pezzi che ho quelli che sono in tavola quelli che ho in mano vedo quali potrei mettere e dove e genero tutte le possibili mosse tutti i possibili modi per costruire la soluzione che è un passettino più avanti un livello in più rispetto a prima può essere fatta per divisione quindi riducendo il problema oppure aggiungendo un pezzo alla soluzione dipende da cosa abbiamo in mano dopo di che a un certo punto andando avanti con questo meccanismo mi accorgerò che ho vinto la partita domina o mi accorgerò che ho una persona sola di fronte a me allora a quel punto mi fermo la soluzione è una soluzione completa non posso più aggiungere nulla poi non posso più aggiungere nulla e ho vinto oppure non posso più aggiungere nulla e ho perso sono due casi diversi ma di sicuro la soluzione è completa poiché sia buona o meno buona non lo so quindi ho la regola generale per generare nuove soluzioni che incasellerò nella macchina ricorsiva ma questa regola generale deve essere fermata da una regola di stop che mi dice hai finito non puoi più andare avanti e deve essere avviata al primo livello come parto noi faremo uno sforzo mentale abbastanza forte qua scusate la slide sbagliata qua nella parte gialla per cercare di capire come generare questa ricorsione e quindi il modo più semplice per capirlo per ragionare è di immaginare di essere a metà non sono a livello 1 sono a livello magari 3 qui c'è già qualcuno che ha fatto un pezzo di lavoro sopra di me e io devo fare la mia fettina e poi delegare a quelli sotto sono a livello 3 o quelli del livello 1 e 2 che hanno già lavorato e io devo fare un po' di lavoro e delegare a livello 4 il lavoro che rimane è più facile da ragionare se ci mettiamo nel caso medio nel caso intermedio e poi però dobbiamo porci il problema della terminazione quando arrivi in fondo e dell'inizio all'inizio abbiamo messo una chiamata solve problem qual è il problema che viene costruito come primo livello questo è un caso di nuovo particolare di iniziale e il caso particolare finale quindi sono i tre momenti dell'esecuzione della ricorsione a cui dobbiamo fare attenzione e se è una soluzione parziale una soluzione parziale significa una soluzione che non è ancora soluzione del problema intero per cui richiede ancora di fare ricorsione ok? se devo ancora fare ricorsione innanzitutto mi chiedo ma questa soluzione che ho qua è valida oppure per caso non lo è ho fatto prima l'esempio degli scacchi questa mossa è valida o no? oppure esce fuori dalla scacchiera oppure andrebbe su una casella già occupata oppure c'è qualche ostacolo in mezzo perché può darsi che quella soluzione non sia valida allora a questo punto anche se non è ancora tutta lunga non è ancora giunta la lunghezza massima mi fermo perché già così non ha più senso andare avanti mi accorgo già prima che da qua la soluzione non la trovo come quando trovavo la fila dei banchi vuoti non c'è andare avanti a dividere sedie in sedie se invece è valida ovviamente devo continuare non sempre posso sapere se la soluzione che ho di fronte è valida o no magari lo scopro solo alla fine l'esempio lo facciamo dopo oppure se sono arrivato alla fine della ricorsione quindi ho una soluzione completa questa soluzione può essere valida o no valida vuol dire che è il massimo che stavo cercando vuol dire che risolve il problema oppure semplicemente una soluzione completa di cui valore la cui bontà immaginate le persone sul pullman sono tutte sedute a sinistra è una soluzione possibile sì è valida sì è ottima no e quindi la butto via se invece non la devo buttare via me la devo tenere allora allora ho dei problemi di tipo diverso a seconda del problema mi chiedo una volta di trovare almeno una soluzione che vada bene allora la prima che trovo la salvo ed esco oppure ho bisogno dell'elenco di tutte le soluzioni allora man mano che ne trovo una la devo salvare e poi alla fine della ricorsione avrò una lunga lista un lungo elenco di soluzioni trovate oppure devo trovare la migliore quindi man mano che trovo soluzioni vado a confrontarle con la migliore già vista faccio un max e continuo a cercare per vedere se ne trovo delle altre ancora migliori oppure mi chiedono semplicemente di sapere quante sono le soluzioni quindi quando trovo una soluzione la conto incremento un godatore e butto via la soluzione e vado avanti a cercare delle altre la seconda del problema quando sono nel caso terminale devo fare cose diverse il caso più fortunato è quando trovi una soluzione fermati esci interrompi tutto e vai a casa perché ti basta trovare una soluzione possibile normalmente ci sono due problemi due grosse categorie di problemi problemi di ricerca dove è difficile trovare una soluzione una volta che l'hai trovata diciamo che una vale l'altra immaginate dover fare l'orario del Politecnico incastrando gli orari degli studenti dei professori di disponibilità delle aule eccetera eccetera non è facile trovarlo molte volte fai dei tentativi e poi dici no caspita adesso qua non abbiamo più aule oppure ah no quei studenti sono già da un'altra parte e quindi non possiamo più far nulla e ti trovi dei punti morti e devi tornare indietro di provarne altre la ricorsione serve proprio a questa provarle tutte ma quando ne trovi una sei contento quindi praticamente sono ricorsioni in cui tu devi arrivare al livello 100 non ci riesci mai perché ti fermi sempre prima perché per strada trovi delle soluzioni parziali non più validi e non puoi più andare avanti ma appena trovi il livello 100 la prima volta sei a posto problemi di ricerca c'è uno spazio di soluzioni immenso ma è difficile trovarne almeno una valida completa oppure problemi di ottimizzazione quello dell'autobus le soluzioni valide ce ne sono tantissime comunque salgano va bene ma qual è quella ottima? allora problemi di ottimizzazione di solito è facile generare molte soluzioni ma il problema è quello di trovare quella migliore che ottimizzi che massimizzi una funzione di obiettivo quindi a seconda di probabilmente ci sono tutte le sfumature tra questi due estremi il problema di ricerca pura in cui mi basta una soluzione una volta che ho trovata una le altre sarebbero comunque equivalenti o un problema di ottimizzazione in cui è facilissimo trovare tutte le soluzioni problemi veri di solito è già difficile trovare soluzioni e quando trovo una però magari voglio anche che sia ottima quindi noi stiamo finora sono rimasti sul generico perché in realtà quello che stiamo imparando è un meccanismo di ragionamento e poi di implementazione generale che si applica a una vastità di casi possibili molto grande quindi stiamo cercando più o meno di capire quali sono i confini dello spazio in cui ci muoviamo ovviamente questi ragionamenti non possono prescindere dalle strutture dati per quello che abbiamo speso un po' di tempo a rifare liste hash alberi cose del genere proprio perché le strutture dati ci servono per poi memorizzare e gestire queste soluzioni parziali aggiungere togliere modificare e così via quindi dobbiamo dirci come è fatta una soluzione come la rappresentiamo e come è fatto lo stato della ricerca lo stato della ricorsione lo stato del sistema mentre stiamo facendo la ricorsione cioè un conto è la soluzione un conto sono tutte le informazioni che mi servono per poter aggiungere un pezzettino alla soluzione che sono maggiori rispetto alla soluzione finale devo ricordarmi tutte le mosse precedenti di evitare di riprendere la stessa persona eccetera eccetera e quindi mi servono le strutture dati aggiuntive per gestire lo stato della ricerca questo qua questo qua è il nostro schema generale dove qua abbiamo messo A, B, C, D, E dei blocchi dove il blocco A è la condizione di terminazione il blocco B è la generazione delle soluzioni parziali poi ci suona un ciclo da qualche parte che ovviamente iter su queste soluzioni poi la chiamata ricorsiva qui ho messo rispetto all'absoluto quello precedente un if in più cioè magari non è detto che questa nuova soluzione la debba provare potrei non doverle provare tutte perché? ma magari perché questa nuova soluzione è equivalente a una precedente o perché include un elemento che non voglio perché l'ho già preso o perché so già che il suo valore la sua funzione obiettivo sarà troppo piccola e quindi non vale la pena poi di caso in caso vedremo l'idea è non è detto che si debba sempre fare la ricorsione per ogni soluzione parziale agitiamo la soluzione parziale le guardiamo e decidiamo quali vale la pena di provare e poi se serve fare backtracking quindi rimetterle cose a posto prima di riprendere il ciclo for questo è un po' il nostro schema ci sono dei casi in cui vabbè ci sono delle operazioni da fare qui è stato chiamato dual il caso E è raro ma è come se tu dovessi gestire ogni singolo caso ogni singola soluzione parziale come fosse anche una soluzione totale io quell'esempio che ho fatto era qua perché l'avevamo fatto poi ci sarà anche il laboratorio il giochino razzol lo conoscete ancora e di voga qualche anno fa ma è ancora sempre allora tu componi delle parole andando avanti sulla tastiera in ogni punto quella che hai può essere già una parola finita oppure potresti voler andare avanti e allungarla allora ogni soluzione parziale è potenzialmente anche una soluzione totale ma anche una soluzione parziale cioè quando arrivo quando ho fatto tre lettere ABC io devo dirmi ok ABC è una parola valida se sì salvo il punteggio poi comunque che sia valida o no continuo a vedere se ad ABC posso aggiungere D E F quindi ho trovato una possibile soluzione finale che è la parola ABC ma questa non mi deve fare terminare la ricorsione come ci immaginiamo i problemi di ricerca noi abbiamo tutti questi livelli di ricorsione e la soluzione vera la troviamo solamente in fondo spesso ecco ci sono dei casi invece come questo in cui le soluzioni vere sono tutti i punti intermedi non solo quelli in fondo quindi ad ogni livello devo sia trattarlo come livello intermedio per continuare la ricorsione sia come livello terminale perché magari contiene una soluzione valida completa completa ma ancora più completabile ancora allora dobbiamo cercare nei vari problemi di proprio scriverci ABCDE cosa devo fare in questi casi ci ragioniamo lo costruiamo e poi da lì scriviamo il codice allora io voglio cominciare con voi a fare il primo esercizio che proviamo a giocare in modo ricorsivo che è questo non so chi di voi gioca a totocalcio è possibile quando voi giocate delle colonne a totocalcio selezionare più di un'opzione no quindi potete per questa prima partita cos'era Bari-Lecce del 91 potete selezionare uno o X o due oppure uno X o uno o due o X o uno X o due se voi annerite uno X contemporaneamente in realtà state giocando due colonne quella con l'uno e quella con la X allora il problema che ci diamo è data la giocata di un giocatore quindi le caselline che lui ha annerito sulle 13 partite per ciascuna partita avrà detto uno oppure due oppure X oppure uno X X due uno due oppure uno due X la famosa tripla per ciascuna di queste 13 partite c'è una di queste 7 scelte dell'utente e che questo corrisponde ad aver giocato molte colonne diverse quindi se l'utente prendiamo quello che ho scritto qua nell'esempio avesse giocato una schedina l'ha fatta solo di 3 e non di 13 in cui la prima partita ha detto uno alla seconda partita ha detto uno X e alla terza partita ha detto X2 questo in realtà corrisponde ad aver giocato quattro colonne diverse 1 1 X 1 1 2 1 X X 1 X 2 lo vedete? questo qua è scritto male cioè praticamente le colonne sono è come se lui è come se lui avesse giocato una colonna 1 1 X perché sta dicendo la prima partita finisce sicuramente 1 vincitore in casa la seconda partita può essere vincitore in casa oppure pari e la terza partita o è pari o vince fuori casa quindi lui con questa notazione compatta ha giocato quattro colonne diverse quattro possibili risultati uno è questo l'altro è quello in cui 1 la prima partita sempre è 1 la seconda potrebbe essere X e la terza X oppure 1 1 2 oppure 1 X 2 posso se scriviamo così quindi questa colonna multipla con la scelta multipla corrisponde a queste quattro colonne giocate e se tu fai questa giocata paghi per quattro colonne non paghi una sola allora noi vogliamo fare un programmino che parta dalla schedina giocata e stampi l'elenco di tutte le colonne espanse corrispondenti a quella giocata allora già nel farlo in questo problema mini mini micro ridotto già mi stavo un po' perdendo devi ricordarti di trovare tutte le combinazioni possibili voi lo sapete dire che sono 4 perché sono 1 per 2 per 2 quindi quello che dicevamo prima sul calcolo combinatorio è facile dire quante sono le colonne ma quali sono me le generi tutte me le fai vedere tutte allora come possiamo impostare un problema del genere allora io mi sono già preparato alcune classi di appoggio che sono su su github già in un progetto che si chiama Toto Calcio dove parto il cuore di tutto e questa classe è in realtà un'enumerazione che ho chiamato risultato per non avere a che fare con numeri 0, 1, 2 oppure il 3 vuol dire x o altro no ho definito dei simboli che sono 1, 2, x il risultato quindi è il singolo risultato possibile della singola partita ok in realtà l'utente fa delle previsioni quindi una classe previsione che altro non è che un insieme di valori di risultati un set di risultati che possibilmente non è un insieme vuoto questo set può avere un valore quindi lui ha giocato 1 oppure 1x e quindi è un set che contiene due elementi è un set e non una list perché gli elementi non sono mai ripetuti quindi l'elemento della schedina quindi questa casellina qua 1x2 questa riga la chiamo in java l'ho chiamata previsione ciascuna delle caselline l'1 l'x il 2 e invece è un risultato ok allora vabbè poi ho dei costruttori che mi permettono semplicemente per comodità di aggiungere 1, 2, 3 risultati direttamente quando aggiungo oppure faccio un add per gestire il set questo set ma semplicemente una classe che mi ricorda un set di risultati cosa fa l'utente? l'utente fa un pronostico pronostico è una lista di previsioni il pronostico dice secondo me vince questo e io ti do una serie di previsioni ogni previsione ricordiamoci che può avere più di un risultato possibile quindi ad esempio l'utente qui ho messo una piccola classe di test fa una schedina io ho messo come parametro la dimensione della schedina per non farla da 13 cominciamo con la schedina da 3 dico che il primo risultato è 2 il secondo risultato quindi creo un nuovo pronostico in questo pronostico nella prima partita faccio la previsione che il risultato sarà 2 nella seconda partita faccio la previsione che il risultato può essere 1 oppure x nella terza partita il risultato sarà 1 x 2 quindi non ho idea di chi vincerà e quindi se io eseguo questo test pronostico mi dice che la schedina è così il mio pronostico è 2 per la prima partita 1 x per la seconda 1 x 2 per la terza l'ho stampato in questo formato sulla riga perché se no per le colonne si sbordola troppo allora cosa dobbiamo fare noi dobbiamo fare una procedura che preso questa classe pronostico mi genere una lista di schedine nelle quali tutte le alternative vengono espanse in tutti i modi possibili immaginabili ok quindi ci sarà 2 1 1 2 1 x 2 1 2 2 x 1 2 x x e 2 x 2 in questo caso allora ho creato ancora un'altra classe che semplicemente si chiama schedino l'ho chiamata se non sbaglio che è semplicemente un elenco di risultati mentre pronostico era un elenco di previsioni quindi previsioni il set la schedina è semplicemente un elenco di risultati il risultato è o il 1 o la x o il 2 quindi io devo prendere un pronostico e espanderlo in un elenco di tante schedine ogni schedina sarà una colonna singola ok allora come possiamo farlo allora vediamo che il nostro test pronostico a un certo punto dice dove è il test pronostico ho fatto questo pronostico e vorrò espanderlo vorrò avere un metodo che sarà un list schedina è uguale uguale il risultato uguale un metodo di una certa classe che mi dia l'espansione quindi espandi di P del pronostico adesso qua dobbiamo inventarci questo è ciò che io voglio fare prendere questo pronostico chiamare un metodo di espandi che mi tiri fuori un elenco di schedina una lista e poi questa lista mi la provo a stampare con calma quindi posso avere una classe dentro la quale metto l'algoritmo di espansione questa classe la possiamo chiamare expander e lei avrà un metodo expand che restituisce una lista di schedina ricevendo come parametro un pronostico la mia classe expander avrà questa interfaccia esterna fatta così e quindi nel mio programma di test userò una nuova e quindi questo sarà ex.expander quindi il codice qua ce l'abbiamo quindi visto da qua non c'è nulla che ci spaventi abbiamo creato una classe che contiene dentro delle stringhe fatte così dei set di valori lo passiamo a un metodo e mi restituisce una lista adesso tutto il lavoro ovviamente lo facciamo dentro questa classe expander la quale cosa dovrà fare allora proviamo a rispondere a queste domande le domande che ci siamo fatti prima del nostro se il mio obiettivo è quello di generare tutte le soluzioni allora innanzitutto cominciamo a generarne una come faccio a generare una soluzione una soluzione che cos'è è una colonna una delle colonne espanse dal pronostico quindi per generare una singola colonna come posso fare? beh posso lavorare un elemento per volta una partita per volta quindi se io come ho fatto a mano quando ho fatto 1 1 x abbiamo scritto a mano prima ho preso l'1 e l'ho messo qua quindi al primo livello della ricorsione prendo tutte le alternative possibili che il pronostico prevede per la prima partita e le provo a mettere poi a livello successivo prenderò tutte le alternative possibili che il pronostico prevede per la seconda partita e le aggiungerò alle alternative che avevo sulla prima partita quindi ogni volta che scendo di un livello io aggiungo una partita alla mia schedina l'aggiungo come? in tutti i modi possibili previsti dal pronostico quindi livello 0 chiamiamolo così abbiamo i stessi indici della lista livello 0 prenderò la prima partita mi chiederò caro pronostico quali sono le possibilità per la prima partita e per ciascuna di queste provo a metterla nella schedina e poi passare al livello successivo a livello 1 quindi la mia soluzione parziale è una lista di risultati quello che ho chiamato schedina schedina non ancora completa che non contiene ancora gli n elementi la mia soluzione parziale la mia soluzione totale completa cos'è? è una schedina che contiene tutti gli n elementi quando è che una soluzione è valida? sempre le soluzioni complete sono sempre valide in questo caso in questo problema l'importante è generarle tutte come viene avviata la ricorsione a livello 0 con una schedina vuota quindi io parto da 0 devo arrivare fino al livello n a livello n avrò una schedina con n elementi quella me la salvo fa parte del risultato quindi queste sono le idee che abbiamo avuto quindi io dovrò avere allora questa funzione che ho chiamato qua expand non è ancora la funzione ricorsiva perché dovrà preparare un po' di lavoro il contesto le variabili che servono perché poi la procedura che fa il lavoro vero quella ricorsiva abbia tutto pronto questa è la funzione che chiama a sua volta la ricorsione nella ricorsione che cosa abbiamo abbiamo una procedura un metodo privato che cosa per ora mettiamo lo void poi vediamo se serve salvare qualcosa ricorsiva chiamano cerca solo più breve di ricorsivo questo è il metodo ricorsivo cosa ha bisogno per lavorare allora quello che vi abbiamo detto prima immaginiamoci il modo più semplice di immaginarsi di essere a metà della ricorsione quindi mi danno già una schedina parzialmente compilata e io devo aggiungere un elemento in più ok quindi mi serve lo stato della ricerca che è una schedina parziale poi mi serve ovviamente il pronostico perché se no non so quali sono le opzioni che devo esercitare e infine mi servirà come minimo anche il livello quindi ti hanno dato una schedina con le prime due righe già fatte e ti hanno detto che le prime due righe già fatte livello uguale 2 allora tu cosa fai provi le terze righe e quindi crei delle schedine parziali nuove a cui aggiungi un terzo elemento preso cosa tra le opzioni e i risultati possibili che il pronostico mi dà a livello 3 sulle parti stessa partita ok quindi facciamo la parte di ricorsione poi ci lavoriamo intorno la parte difficile la facciamo subito ho un problema parziale facciamo finta che la schedina sia questa 1 x quindi livello 2 devo mettere il terzo quindi devo guardare il pronostico p di 2 cioè il secondo elemento del pronostico supponiamo che sia x2 allora devo provare allora genererò le nuove soluzioni parziali 1x le ho già e ci aggiungo x e 1x e ci aggiungo 2 mi hanno dato una soluzione parziale mi hanno detto se è il terzo livello 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 uguale 2 perché contiamo da 0 allora vado a vedere il pronostico per la terza partita cosa mi dice mi dice l'utente ha pronosticato x2 allora prendo la soluzione parziale senza neanche guardarla e ci aggiungo x e poi provo a fare ricorsione su questa poi riprendo la stessa soluzione parziale di prima sempre la stessa e stavolta ci aggiungo 2 che è l'altra alternativa possibile e faccio ricorsione su quest'altra quindi in java sta roba come si scrive allora innanzitutto dovrò vedere quali sono le previsioni lecite si chiama previsione la classe sì le mie mosse possibili le ottengo dal pronostico e qui non ho un get che mi dia qui è solo add per crearlo ma mi serve anche un getter che mi dia questa colonna facciamolo un get public public void non void eh previsione get di int dis punto colonna punto get di qualcosa che mi dica che qual è la previsione di quella partita quindi quindi p punto get di livello se livello è uguale a 0 p punto get di 0 mi dà la prima no la lista hanno gli indici che partono da 0 mi dà la prima con livello con livello uguale a 2 nel nostro esempio mi dà la terza partita previsione è un set dentro allora per ogni elemento del set dobbiamo fare il nostro tentativo quindi for risultato la singola mossa la prendo ecco ho già un metodo che si chiama get valori che mi restituisce un set dei risultati abbiamo detto che la classe previsione non è altro che un set di oggetti risultati quindi questo get valori mosse punto get valori è il mio x2 cioè anzi il set composto da x è da 2 quindi dentro questa parentesi di graffa sono qui x2 sono i due tentativi da provare e devo costruirli così quindi dovrò creare una nuova schedina parziale in cui aggiungo la prima mossa cioè ci aggiungo x e a questo punto posso andare avanti con la ricerca passandoti la soluzione parziale che ho aggiunto a cui ho aggiunto un elemento lo stesso pronostico perché è sempre lui e il livello più 1 poi ciò che dovrò fare quindi ho aggiunto 1 xx poi richiamo la procedura ho finito il mio lavoro richiamo la procedura della cerca dicendo da qui in avanti vai avanti tu qualcun altro ho ridefinito il problema come un problema di livello 4 cioè troviamo l'espansione della quarta partita io l'espansione della terza l'ho fatta e così via devo poi ricordarmi di rimettere a posto le cose perché io se questo ciclo for viene eseguito due volte ho aggiunto la mossa 1xx poi il 2 devo aggiungerlo non a questo ma la soluzione parziale di partenza quindi qui ho sporcato la soluzione parziale alla seconda iterazione farei un add sull'add di prima che non va bene quindi devo ripulire ho due modi qua o mi creo una copia della soluzione parziale un nuovo oggetto parziale ci ricopio dentro i valori tu lo aggiungo e poi lo butto via oppure se modifico per evitare tutto questo lavoro se modifico quello originale che mi hanno passato poi lo devo rimettere a posto in questo caso possiamo fare che l'oggetto previsione no questo è chi? la schedina l'oggetto schedina gli diamo un metodo in più in cui dico cancella l'ultimo elemento che avevi pertanto io dovrò cancellare sempre solo l'ultimo ne aggiungo uno poi lo tolgo e tolgo sempre l'ultimo che ho aggiunto lo devo fare dentro l'oggetto schedina perché io la lista colonna non ce l'ho dalla mia procedura ricorsiva quindi la schedina le permette di aggiungere un risultato o di togliere l'ultimo remove last e quindi nel mio expander remove last quindi qua prova la soluzione chiede alla procedura ricorsiva di analizzare il problema a questo punto modificato con una soluzione già più lunga e con uno spazio di ricerca più piccolo perché via via il pronostico lo sto mangiando a ogni livello della ricorsione sto esaminando un elemento in più del pronostico ok ovviamente questo è ancora il nucleo abbiamo risposto alla prima delle tre domande chiave come faccio data una soluzione parziale a generare le altre guardo il pronostico a quel livello e aggiungo adesso dobbiamo corrispondere alle altre due domande cosa faccio quando sono arrivato in fondo alla ricorsione come faccio per farla partire quindi a monte di tutto c'è stata la domanda come rappresentiamo le soluzioni con delle liste con dei set ma questo è semplicemente una volta che ho l'idea di che cosa devo fare uso gli oggetti normalmente come costruisco la soluzione una partita per volta e ad ogni partita proverò tutte le mosse possibili tutti i risultati possibili compatibili con il pronostico che ha fatto l'utente ok teniamoci da parte che domani sera lo finiamo grazie a tutti grazie a tutti